Atto finale per il progetto OXI 2019 da parte della misericordia cavrigliese coinvolti i genitori e studenti delle scuole cittadine ma anche san giovannesi per i dettami di primo soccorso. Appuntamento per la festa a seguito dei corsi tenuti dal maggio scorso il 6 giugno al circuito di Bello Sguardo a partire dalle 9. Veramente siamo arrivati anche quest'anno alla fine di questo progetto che è veramente il fiore all'occhiello della sezione di Capriglia. Sono sei anni ormai che tutti gli anni ci ha un grande successo. Quest'anno oltretutto oltre alle scuole del plesso di Capriglia, Castelnuovo e Capriglia, ci sono anche due scuole elementari di San Giovanni Valdarno, la scuola del Bani che partecipa con due classi e la scuola paritaria delle suore agostiniane. Anche loro partecipano con due classi. Io ho partecipato ad alcuni incontri in queste scuole e veramente ho rilevato un grandissimo entusiasmo sia da parte dei bambini che sono veramente entusiasti di questa iniziativa che delle maestre di tutti. Una festa diciamo finale per i ragazzi, per tutti coloro che hanno partecipato a questo evento perché ormai si parla di un evento nel comune di Capriglia e quest'anno siamo andati anche a San Giovanni. È una cosa bellissima perché partecipa i genitori, i volontari, partecipa l'amministrazione, partecipa altre associazioni di volontariato. È bellissima, è una cosa che dà lustro alla nostra misericordia, ai nostri due paesi e ci inorgoglisce molto poterne essere parte integrante. Mi riempie di soddisfazione perché stare tra i ragazzi e comunque comunicare a loro, insegnare tra virgolette diciamo queste prime nozioni di pronto soccorso, pronto intervento di fronte a determinate difficoltà è una cosa e i bambini sono molto recettivi su questo per cui sono stati molto bravi.